Musica Ore 10.36 a Cireale, via di San Giuliano Questa è la via Grassi-Bertazzi bloccata completamente con macchine incolonnate La via di San Giuliano Qua c'è la direzione di Acaronda Ben Giuliano, andiamo a vedere se al corso Savoia Con l'accorgimento hanno ridotto il traffico Dici che hanno ridotto il traffico in corso Savoia? Con questo accorgimento andiamo a vedere se è vero Siamo a famoso ingrocio che doveva liberarsi La musica è cese Mezzi che salgono via purò ingolonnati In corso Savoia Soluzione non valida Grazie a tutti 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 Grazie a tutti